Si svolgerà domani l'autopsia sul corpo di Francesco, il bimbo morto ieri all'ospedale Santa Croce di Fano. A stroncarlo, alla sola età di 10 anni, probabilmente una meningite fulminante causata dal batterio meningococco. Il piccolo, che insieme alla mamma Roberta e al papà Gianluca abitava a Orciano di Pesaro, non ha accusato nessun sintomo fino al giorno prima. Poi, sabato sera, il crollo improvviso. Ha cominciato ad avere la febbre, ha preso l'attacchiperina ed è andato a dormire, ma ieri stentava a svegliarsi. È lì che è partita la corsa al nosocomeo, dove i medici hanno capito fin da subito che poteva essere stato colpito da meningite. Arrivati in pronto soccorso alle 5.24, Francesco è stato catalogato con codice rosso ed è stato sottoposto subito a rianimazione. In base al quadro clinico allarmante, è stato deciso di predisporre il trasferimento all'ospedale Salesi di Ancona, ma è stato inutile. Il cuore di Francesco ha cessato di battere alle 7.40. Vi siete attivati comunque fin da subito? Subito, ma sin dall'ingresso in pronto soccorso mi ha riferito il medico che era presente. Le condizioni erano gravissime, il bambino era già in gravissimo stato con alterazione della coscienza e per cui sono stati allertati i rianimatori, i pediatri, anche l'eli soccorso, proprio nell'ipotesi di riuscire a trasferirlo presso l'ospedale pediatrico di Ancona, ma non c'è stato il tempo. Una tragedia che ha lasciato tutti sotto sciocche e che ha fatto scattare nel giro di pochi minuti un piano di profilassi per tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con lui, compresi i 20 operatori sanitari. 68 bambini e 24 adulti invece sono state le persone tra familiari, compagni di classe, di piscina e amici della parrocchia, contattate nell'arco di 3-4 ore. Poi nell'aula del Consiglio Comunale di Orciano gli sono stati somministrati una compressa o uno sciroppo in base al peso corporeo di ciascuno. Fondamentale a reperire le dosi di antibiotico necessarie è stata la staffetta effettuata dai carabinieri al centro farma. Il deposito medicinale regionale di Iesi. Questa mattina invece è stata convocata una conferenza stampa, trasmessa in diretta su Fano TV, in cui oltre a fare il punto della situazione è stata rassicurata la popolazione. Infatti i responsabili hanno spiegato che si tratta di una forma molto rara di questi batteri e che non hanno una elevata contagiosità. Noi in questi casi, chiaramente, quando abbiamo dei sospetti che sono in pratica legati a patologie infettive, oltre che sussistere l'obbligo di legge, cerchiamo un attimo di rendere più snelle le procedure di collegamento con l'organo, che è il Dipartimento di Prevenzione, che noi attiviamo anche in via ipotetica. Per cui, chiaramente, nella sola ipotesi di una malattia infettiva, al fine di anticipare e di trattare nel breve termine possibile eventuali contatti, cerchiamo di procedere chiaramente a questo collegamento. Dunque è stata attivata la sorveglianza sanitaria? Sì, dopo questa fase, che è stata quella di ricostruire e cercare di raggiungere quegli contatti stretti considerati a rischio, da adesso in poi inizia una sorveglianza sanitaria da parte degli operatori medici, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, in modo che facciano attenzione su eventuali casi che possono emergere nel territorio, in modo tale da segnalarcelo e avere quindi subito la possibilità di interagire con gli soggetti che sono eventualmente a rischio. Quindi questa è una fase che durerà per 7-10 giorni e poi dovrebbe finire qua. Com'è possibile prevenire? La prevenzione migliore è il vaccino. Attualmente noi abbiamo il vaccino che è quello per i meningococco C. I meningococchi sono abbastanza diffusi, come anche nei portatori sani, sono però anche di diversi sierotipi, cioè sono diversi i tipi di meningococco. Nel 2014 è uscito anche il vaccino per il meningococco di tipo B, quindi oggi abbiamo anche la possibilità di una gamma di possibilità di protezione attraverso la vaccinazione che è importante. Io per esempio a mio figlio ho già fatto la meningite C e adesso vediamo con lo sviluppo anche di questi nuovi vaccini di poter allargare la sua copertura. Il dottor Cappuccini invece ha dato delle delucidazioni in merito al batterio, sottolineando che l'ultimo caso di meningite fulminante nella nostra provincia risale a 13-14 anni fa, quando la vittima fu una ragazza di Cagli. È un batterio che vive nel rino faringe di molte persone della popolazione generale. Se andiamo a cercarlo probabilmente nel 20-30% della popolazione lo possiamo trovare. vive come si approfitta, sta lì e sta buono. In condizioni particolari può virulentarsi e dare la manifestazione della malattia e può essere contagioso per quelle persone che stanno a stretto contatto. Per stretto contatto si intende la famiglia e eventualmente la classe. Attualmente i casi sono sporadici, cioè sono estremamente rari. C'è casi di meningite batteriche che si registrano per registrare qualcuno, 4-5 a livello regionale, all'anno, se non è che siano molti di più. Tutte le altre forme di meningite possono essere causate non tanto dal meningococco quanto da altri batteri o da dei virus. Ma nel caso specifico di Francesco è stato fatto tutto il necessario e in tempi estremamente rapidi.